Prosegue l'operazione di ammodernamento del parco mezzi della Tua in un'ottica verde. L'azienda di trasporto regionale ha infatti annunciato di aver immesso nel circuito del trasporto pubblico locale 12 nuovi mezzi. Nello specifico si tratta di tre autobus modello Evidis destinati alla linea commerciale L'Aquila Roma, mentre nel settore del trasporto pubblico locale ci saranno sei bus Iveco Crossway Low Entry alimentati a gasolio, oltre ad un autobus Sitcar Italia modello Rod e due autobus oggetto di trasformazione Dual Seul. Gasolio metano che proprio grazie a questa tecnologia omologata comporta una significativa riduzione delle emissioni in atmosfera fino a meno 80 per cento di polveri sottili. Dopo 104 autobus che nel 2020 hanno rinnovato la flotta di Tua, dichiarato il presidente della società Gianfranco Giuliante, continua l'azione di rinverdimento del parco mezzi e si intensifica la svolta verde con un progetto, prosegue Giuliante, che prevede la stipula di un'apposita convenzione tra Tua, Università dell'Aquila e CNR di Napoli sullo studio e l'impiego della miscela di carburante idrometano sperimentato sul motore. Questi mutamenti si inquadrano nel contesto di una svolta nella direzione di uno sviluppo sostenibile finalizzato, concluso Giuliante, alla transizione ecologica. Tua ha anche aderito al progetto comunitario Life 3H che prevede fondi per l'acquisto di un autobus ad idrogeno che verrà impiegato nell'area montana dell'altipiano delle Rocche.